No, io. 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 Che cosa vi porto? Che volete? Il succo o il gelato? Che stai facendo qua? Vinta. Eh, non ce lo posso offrire, non ce l'ho da creatore. Io voglio il succo. Io ho detto il succo. Ma tu chi sei? Sono un amico di papà tuo. Nicola, questo lo sai fare? Questo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Questo. Tu però lo sai fare questo. Bravissimo. Noemi, al volo. A vola, a vola, a vola, Andrea. Nell'occhio. Sì, sono più forte io. A via, a via, a via, a via, a via.